Continua il nostro impegno, quello dell'assessore Abbagnato, nel recupero e valorizzazione di tutto il nostro patrimonio monumentale, storico e artistico. Dopo la Fontana di Consagra, dopo la Chiesa di Sant'Ignazio, adesso il Teatro Garibaldi, presto saranno oggetto di lavori l'Arco Normanno, l'Aula Consigliare che è chiusa alla libera fruizione e poi ancora i mosaici di San Nicolò Regale, insomma in questi pochi anni stiamo recuperando e portando alla piena fruibilità e utilizzo per tutti i turisti ma soprattutto per i nostri concittadini mazzaresi il nostro patrimonio monumentale, culturale, artistico abbandonato per decenni. In soli pochi anni tutto questo patrimonio sarà oggetto di lavoro, ne abbiamo fatti tre, ne stanno per arrivare altri tre. Io vorrei ringraziare per questo gioiello bellissimo che è il Teatro Garibaldi, vorrei ringraziare i tecnici, in particolare il geometra Salvatore Ferrara, il geometra Piero Aurelio Giacalone, l'architetto Tatiana Perzia che davvero si sono spesi insieme con l'assessore Reina e l'assessore Abbagnato per recuperare questo che è considerato davvero un gioiello da tutti coloro che lo visitano. Devo raccontarvi che il nostro teatro ha un suo gemello che si trova a Noto, che è un po' più ricco di questo ma il nostro ha una storia che è legata all'identità di Mazzara. Oggi è un altro giorno di festa per Mazzara. Mi sembra che stanno diventando sempre di più questi giorni di festa. Dopo tanti anni di lavoro cominciamo a cogliere i frutti del nostro impegno. Che tipo di lavori sono stati fatti? E questo ce lo potrà raccontare bene l'assessore Abbagnato. Prego, assessore. Così non ti rubo la scena pienamente. Ringrazio il sindaco per aver creduto fin dall'inizio in questo progetto unico di sviluppo della città che non riguarda soltanto gli aspetti economici ma anche culturali e artistici perché la bellezza può essere un volano per sviluppare la nostra città. E questo avviene non in un progetto singolo ma in un progetto unico che include una rivalorizzazione di tutti i siti e il patrimonio culturale di questa città. Ora il Teatro Garibaldi è un piccolo gioiello di questa città e lo restituiamo al patrimonio artistico e culturale della città rendendolo anche altamente tecnologico perché da un lato sono stati fatti dei lavori proprio di ammodernamento troverete luci a led di ultima generazione, un impianto audio di altissima qualità e poi novità importantissima il sipario meccanizzato che è un elemento assolutamente di grande rilievo. Lo schermo discretamente nascosto ma pronto per l'utilizzo, il videoproiettore quindi il teatro diventa funzionale per la realizzazione di eventi a pieno titolo. Questo da un lato, dall'altro bisogna anche sottolineare degli aspetti che probabilmente non vedrete di primo, non vi salteranno agli occhi ma in realtà è la parte più importante e cioè il recupero di quello che era il tesoro di questo teatro. Artigiani hanno lavorato con il sistema della carta pesta essiccata lentamente metro per metro hanno ricostituito le balconate del teatro ridipingendole con il classico color oro, con le foglie e tutto questo insieme al rifacimento degli stucchi, delle cornici, il ripristino del parquet dunque un lavoro assolutamente di particolare e di dettaglio. Ecco, noi oggi siamo davvero contenti di restituire alla città questo patrimonio torna per i cittadini mazzaresi, torna per i turisti, per i visitatori e per la bellezza di questa città.